Ciao ragazzi, oggi ti leggo un altro brano di Thich Nhat Hanh a completamento del video precedente, quello della meditazione del cavolo, titolo ricordo assegnato da me e non da lui. In questo caso invece il titolo originale assegnato da Thich Nhat Hanh è la comprensione. Comprensione e amore non sono separabili, sono esattamente la stessa cosa. Immagina per un attimo di avere due figli e che una mattina tuo figlio si alzi e si accorga che sia fatto tardi. Subito dopo va a svegliare la sorellina per darle il tempo di fare colazione con calma prima di andare a scuola insieme. Lei però ha la luna di traverso e invece di ringraziarlo per averla svegliata gli urla vattene lasciami in pace e gli tira anche un calcio. A questo punto è probabile che il fratello si arrabbi. Ma come? Ti ho fatto il favore di svegliarti e mi prendi anche a calci? Vorrebbe correre in cucina a lagnarsi con te o magari restituirle il calcetto. Ma poi si ricorda che la sorellina ha tossito tutta la notte e si rende conto che probabilmente è malata o stanca. Forse si comporta così perché ha l'influenza o ha dormito male. Ora ha capito e la rabbia non può fare altro che passargli. Quando c'è comprensione non si può fare a meno di amare. Arrabbiarsi è impossibile. Per imparare a comprendere bisogna guardare tutti gli esseri viventi con gli occhi della compassione e della comprensione. Comprendere significa amare e quando si ama si agisce spontaneamente in modo da alleviare la sofferenza dell'altro. Quanto abbiamo da imparare in generale e quanto soprattutto abbiamo da imparare da Thich Nhat Hanh. Fuori e dentro il viaggio continua. Namaste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.